Ma visto che l'unica cosa che sai fare, caro Toscani, è quella di far foto, mettiti davanti allo specchio e fotografa la tua immensa vergogna. E vergognati, vergognati! Signore qua, Oliviero Toscani. Oliviero Toscani oggi, poco fa, ha avuto il colpo di genio di dire questa frase. Falla vedere, falla vedere, ce l'abbiamo? No, me la faccio addirittura se non ce l'abbiamo lo stavo. Vabbè, ve la dico io. Ha detto a chi interessa, eccolo qua, a chi interessa che caschi un ponte. Riferimento al ponte Morandi. 43 morti! 43 morti e lui, servo dei Benetton, leccaculo dei Benetton, dice chi se ne frega. Sentite, sentite la clip, sentite. Benetton è un azionista di una società della quale la famiglia ha un 30%, ma magari anche lei si è investito, lei che è lì, il giorno da pecora, si è investito in banca, magari anche lei è un azionista. Magari non grande come Benetton, ma allora anche lei è responsabile della caduta. Ma a chi interessa che caschi un ponte? Ma smettiamola. Ma insomma, le persone che sono morte, per esempio, gli interessa. No, sì, sì, vabbè, comunque no. Mi sembra. Parecchio anche. Non mi interessa questa storia qui. Benetton, Benetton, sponsorizza un centro culturale. Non gli interessa lui, avete capito? Non gli interessa. Sono morte 43 persone e lui non gli interessa. Io non so che cosa abbia bevuto, se sia male, se ha battuto la testa da qualche parte. Mi auguro per lui che non fosse lucido quando ha detto questa enorme bestialità. Ma visto che l'unica cosa che sai fare, caro Toscani, è quella di far foto, mettiti davanti allo specchio e fotografa la tua immensa vergogna. E vergognati, vergognati!